E' stata formalizzata stamani la denuncia ai carabinieri per ingiurie e lesioni da parte del padre di 12 anni che sarebbe stato aggredito e insultato da due ragazzi di 15 anni in un parco di Campiglia Marittima nella provincia di Livorno perché di origine ebraica. L'episodio è accaduto domenica intorno alle 18.30 in un parco pubblico, il dodicenne che si trovava con altri coetanei e senza motivo sarebbe stato prima invitato a tacere dalle due ragazze e poi apostrofato con frasi antisemite come devi bruciare nei forni. Dopo la discussione le due ragazze avrebbero preso a calcio e pugni il dodicenne che tornata a casa ha raccontato tutto al padre. Dopo l'aggressione il ragazzino è andato al pronto soccorso dove gli sono state diagnosticate una serie di contusioni multiple guaribili in cinque giorni. La denuncia che risulta aggravata dallo sfondo razziale sarà inoltrata ora alla procura dei minori di Firenze. A raccontare la vicenda alla sindaca Alberta Ticciati è stato il padre del bambino dopo aver contattato il comune. Una situazione incredibile da pelle d'oca sembra di essere ripiombati nei tempi più bui della storia del nostro paese, ha detto la sindaca. L'amministrazione comunale non intende sottacero banalizzare quanto accaduto che è di una gravità inaudita. Il fatto che nel 2022 succeda una cosa tale in una realtà come la nostra è di una gravità massima che va indagata, approfondita, compresa e fortemente stigmatizzata. L'amministrazione comunale esprime la più profonda solidarietà al ragazzo e alla sua famiglia. Tutta la nostra comunità è con loro contro la violenza, contro la discriminazione, contro l'orrore che questi atti suscitano. Stop all'antisemitismo.